Buongiorno a tutti. Prima di iniziare consentitemi di ringraziare brevemente gli organizzatori per aver dato l'opportunità anche a chi non è potuto essere presente a Siviglia di partecipare in questo modo ai lavori del convegno. Ringrazio anche chi segue in questo momento il mio intervento. Il mio contributo si propone come una riflessione sull'eredità linguistica italiana in Croazia, in modo particolare nella regione istriana che è l'unica delle 20 regioni della Repubblica di Croazia in cui l'italiano è riconosciuto secondo lo statuto della regione quale seconda lingua ufficiale ed è quindi equiparato negli usi ufficiali alla lingua croata. Tuttavia il quadro sociolinguistico istriano è ben più complesso e per l'intrecciarsi di varietà slave romanzi sul territorio è stato descritto negli anni 90 dalla linguista Milani Kruliaz quale doppiamente di glottico o della poliglossia imperfetta. Dirò brevemente qualche cenno sulla tutela giuridica della lingua italiana nella regione istriana sulle varietà parlate ed infine concluderò il discorso con qualche riflessione sulla posizione e sull'uso dell'italiano e delle altre varietà romanze in Istria. Dunque l'Istria dicevo si presenta come un mosaico relativamente complesso da un punto di vista linguistico e pure multilingue in cui da secoli si intrecciano varietà slave romanze e in cui in passato anche il tedesco ha avuto un ruolo importante. L'Istria geograficamente parlando è una penisola che appartiene a tre repubbliche, alla Repubblica Italiana, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica di Croazia. La maggior parte del territorio tuttavia appartiene alla Repubblica di Croazia e confluisce in quella che amministrativamente si chiama regione istriana o in croato Istraska Jopania. Sia la regione istriana che la parte del litorale sloveno, ovvero la parte dell'Istria slovena in cui abita una consistente percentuale degli abitanti della comunità nazionale italiana, in entrambe le Istrie quindi l'italiano è riconosciuto con la seconda lingua ufficiale, in quei territori, in quelle città, in quei comuni, in cui abita appunto una percentuale considerevole degli abitanti della CNI. Che cos'è la CNI? La CNI è una comunità storica e autoctona che abita nelle odierne Repubbliche di Slovenia e Croazia e che gode di un solito impianto di tutela giuridica. Non farò ora un excursus storico per quanto riguarda la CNI, ma ci sono i riferimenti nel contributo volendo per approfondire il discorso. È rappresentata dall'Unione italiana che è, cito l'articolo primo dello Statuto dell'Unione italiana, l'organizzazione unitaria, autonoma, democratica e pluralistica degli italiani delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, di cui esprime l'articolazione complessiva dei bisogni politici, economici, culturali e sociali. Ha sede legale sia a Copercapodistria in Slovenia sia a Fiume in Croazia per gli appartenenti della CNI in Croazia. Ed è riconosciuta, quale associazione è riconosciuta come rappresentante della CNI sia l'Unione italiana sia dal memorandum d'intesa tra Croazia, Italia e Slovenia, sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia del 1992, sia dal trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia concernenti i diritti minoritari del 1996. La maggior parte degli appartenenti alla CNI, chiamerò così la Comunità Nazionale Italiana, risiede in Istria, nella regione istriana. Secondo i dati dell'ultimo censimento, sono in tutto 17.807 i cittadini dichiarati di nazionalità italiana al censimento del 2011 e di questi ben 12.543 risiede in Istria, il che rappresenta il 6,92% della popolazione complessiva della regione istriana. Si è da poco concluso il censimento del 2021 in Croazia e quindi presto disporremo di dati più aggiornati. Dato interessante è quello notato da Scotty Uric in uno studio del 2020 in cui dice che l'Istria è l'unica regione della Repubblica di Croazia a registrare un incremento demografico, per cui dai 206.344 abitanti del 2001 si è arrivati ai 208.055 abitanti nel 2011. Dall'altra parte però si è registrato un calo nel numero di cittadini che si sono dichiarati di nazionalità italiana, che nell'anno 2001 erano ben 19.636. va qui anche detto che recentemente si è registrato al censimento del 2011 una grande percentuale di abitanti della regione istriana che si è dichiarata di nazionalità italiana, va qui specificato che con nazionalità si intende l'appartenenza etnica, dunque non la cittadinanza ai censimenti. La CNI che gode appunto di questa solida tutela giuridica per quanto riguarda i suoi diritti e l'uso della lingua italiana ha anche il diritto all'istruzione nella propria lingua madre che le viene garantito in base alla legge sulla formazione e l'istruzione nella lingua delle minoranze nazionali e alla legge sulla formazione e l'istruzione nelle scuole elementari e medi superiori, che avviene secondo il cosiddetto modello A, cioè vuol dire che l'italiano è lingua veicolare, cioè lingua di insegnamento, tutti i corsi, tutti gli insegnamenti si svolgono completamente in lingua italiana. Oltre a ciò gli appartenenti alla CNI hanno anche il diritto all'informazione nella propria lingua madre, quindi l'italiano, e questo diritto diciamo viene attuato grazie alla presenza di varie emittenti radio televisive, tra cui desidero citare Radio TV Coper Capodistria in Slovenia, con sede appunto a Coper Capodistria e la casa editrice Edit, che sta per edizioni italiane, con sede a Fiume, che oltre a pubblicare un quotidiano pubblica anche altri libri e quindi ha un'importante produzione anche letteraria. Chiaramente alla co-ufficialità della lingua italiana in questi territori, in cui comunque l'italiano e lingua minoritaria si legano diverse problematiche. Oltre alla segnaletica stradale che dovrebbe essere bilingue, lo status di seconda lingua ufficiale comporta la necessità di rendere disponibili anche in italiano documentazioni e comunicazioni ufficiali sui territori di città e comuni che applicano il bilinguismo. Affinché ciò sia possibile, è chiaramente necessario disporre anche di risorse umane e finanziarie. Inoltre, come riscontrato in una recente ricerca di Lalli, Pacelat e colleghe del 2020, ma ancora prima visto in Lalli, Pacelat 2013, c'è una forte assenza di uniformità terminologica nei testi tradotti in italiano all'interno delle istituzioni, ma anche tra diverse istituzioni della regione istriana. Diversamente comunque da quanto avviene per la lingua italiana, che comunque gode di una solida tutela giuridica, le varietà istrioto e istroveneto non sono così ben tutelate. L'istrioto è una varietà preveneta, parlata in Istria, su cui non c'è ancora accordo per quanto riguarda le origini. In Istrioto è stato difficile anche risalire a dei primi testi in Istrioto. L'ultimo ritrovato nella biblioteca universitaria della città di Pola è un sonetto in Istrioto che dovrebbe risalire al 1828. Prima si considerava il 1835 essere l'anno di datazione del primo testo in Istrioto e quindi anche la ricostruzione linguistica è relativamente complessa e difficile. Tuttavia è parlato ad oggi da poco più di un migliaio di parlanti in cinque località della costa sudoccidentale istriana e sono tutte località in cui tra l'altro si parlano anche istroveneto, considerato lingua franca degli italiani dell'acni, relegato a tutti gli usi informali e italiano come seconda lingua ufficiale, nel senso che l'italiano in questi territori, in queste città e comuni in cui si parla Istrioto è pure lingua ufficiale. Quindi ci sono diverse varietà che in un certo quel senso si contendono il territorio. Quale futuro? Sì, volevo anche dire, scusate, che comunque si è fatta domanda recentemente per l'iscrizione dell'istroveneto e dell'istrioto nel registro dei beni culturali e materiali della Repubblica di Croazia, un traguardo già raggiunto per l'istroveneto in Slovenia, verrà iscritto anche l'istroveneto in Croazia a queste notizie recente e si attende ancora una risposta per l'istrioto. Tuttavia ci si chiede quale possa essere il futuro dell'italiano e di queste varietà romanze in Istria. L'istrioto, serio rischio d'estinzione. L'istroveneto, lingua franca della CNI, però molti termini cadono in disuso e vediamo che si sta sempre più italianizzando. L'italiano è lingua ufficiale, però il bilinguismo non viene sempre attuato. Ci sono molte difficoltà e c'è ancora molto da fare. Si sta già facendo abbastanza nell'ultimo anno. Ci sono stati degli accordi sottoscritti tra la regione istriana e le città e i comuni che applicano il bilinguismo per appunto incentivare l'uso dell'italiano come lingua ufficiale anche nella segnaletica e anche per quanto riguarda l'uniformità della terminologia e quindi insomma si spera che in futuro si possa migliorare anche la posizione dell'italiano come lingua seconda da un punto di vista ufficiale proprio, dell'italiano come lingua ufficiale. Tra i dati che fanno ben sperare quelli relativi all'iscrizione nelle istituzioni elementari e prescolastiche in lingua italiana. Rispetto all'anno scolastico 2011-2012, nell'anno scolastico 2019-2020 ci sarebbe stato un incremento del 13,56% di iscritti alle scuole elementari e questo è un dato che chiaramente fa ben sperare. Tuttavia, come hanno rilevato anche Boglione e colleghi che hanno fatto una ricerca nei comuni bilingui della regione istriana, bisognerebbe continuare a lavorare sul bilinguismo, come dicevo poc'anzi, sia per quanto concerne l'applicazione della normativa che lo regola, sia sulla pianificazione linguistica per consentire sì un uso equiparato delle lingue italiane e croata negli ambienti istituzionali, ma anche per creare i presupposti che ne rendano necessario l'uso, come suggerito e ricordato anche dalle colleghe Gurgic e colleghe che invece hanno scritto una monografia sullo sloveno, nel friuli Venezia Giulia sulla comunità slovena, ricordando che appunto i presupposti necessari affinché i parlanti usino una lingua minoritaria nella comunicazione quotidiana siano la capacità, l'opportunità, il desiderio, ma anche la possibilità di usarla e quando parliamo di lingue in contatto e di lingue minoritarie chiaramente questi fattori si presentano particolarmente, come particolarmente rilevanti. Vi ringrazio.